ciao a tutti amici della maratona di venezia ci siamo quasi so che vi state allenando vi state preparando e che state componendo un bel gruppo di runners che abbia voglia di correre per solidarietà e quindi anche per la mia onlus la disabilino limits ve ne sono molto grata anche perché con l'associazione noi non solo promuoviamo lo sport come terapia integrazione ma raccogliamo fondi per regalare questa opportunità a chi non se la può permettere perché ricordiamo che lo stato non copre ausili evoluti quindi quelli sportivi non sono neanche menzionati e allora in occasione della venice maraton prestate le gambe a chi non ce l'ha mettetecela tutta correte col sorriso e io giusy versace sarò lì a tifare per voi a correre insieme a voi e ci vediamo il traguardo per festeggiare insieme un bacio a tutti ciao